Vita Eleganza Viaggio Sogno Ribelle Fede Amore Passione Gioia Halloween Natale Natale San Valentino Mamma La vita è il mio figlio migliore Yo Ya Shi Jun Tai Di Il viaggio è quando senti il cuore che ti scricchiona per la felicità Il mio sogno è di correre il impossibile Mi ribello, quindi esisto La fede per me è riuscire a vedere anche ad occhi chiusi L'amore è quando la realtà è più bella che un sogno La passione è l'energia della vita E ti chiedi con la Brahmat Scopri il nuovo fashion style chakra e tre gelée Brasway Grazie 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 Grazie